Buongiorno a tutti, ci stiamo avvicinando al settimo giorno di Pesach, settimo o ottavo giorno in realtà. I giorni che rappresentano il momento in cui è stata completata l'uscita dall'Egitto, ovvero l'apertura del mare. Ma torniamo un passo indietro, come si è aperto il mare? Quando Hashem ha creato il mondo ha dato a ogni cosa della natura delle regole. E una delle regole che Hashem ha dato al mare è che il mare deve essere chiuso. Ma gli ha detto quando Amisrael vorranno uscire, quando il popolo di Israele vorranno uscire dall'Egitto, tu dovrai aprirti. Eppure, vediamo nella torre che quando Amisrael arriva davanti al Mar Rosso, il mare non si apre. Come mai? Amisrael si trovavano in una situazione molto 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 bassa, molto negativa dal punto di vista spirituale. Erano proprio in deficit spirituale, in un deficit molto molto alto. Tanto da non essere più riconosciuti come figli di Jacob Avinu. E il mare quindi, avendo la promessa con Hashem di aprirsi per i figli di Jacob, per i figli di Amisrael, per il popolo di Israele, non riconoscendoli, non si è aperto. Ma quando ha visto il coraggio di Nachshon Ben Aminadav, quando ha visto il coraggio del primo che si è buttato dentro il mare e ha dimostrato di essere parte di Amisrael, lì il mare si è aperto. Lì il mare ha aperto tutto e tutto Amisrael è passato salvando Amisrael dalle mani degli Egizi. Così anche noi. Hashem mette delle regole nel mondo. Sì, la natura funziona così, sì, le cose funzionano in un certo modo, ma per Amisrael Hashem ha uno statuto speciale. E noi dobbiamo soltanto dimostrare il nostro coraggio. E questo come lo facciamo? Tante volte la mattina ci sentiamo stanchi. Tefilin, pesante, perché dobbiamo mettere tefilin? Ma quando la mattina facciamo noi il primo passo, diciamo sì, noi mettiamo i tefilin, allora anche Hashem ci risponde automaticamente con la sua bontà e ci tira fuori anche dai limiti che naturalmente sembrano chiusi, tutti i nostri limiti. E ci tira fuori da questi limiti e Bezrot Hashem, che grazie a questo piccolo passo che ognuno farà, iniziando, buttandosi per primo, non aspettare che quello faccia, che l'altro faccia, pensare a te stesso, fai, inizia. E grazie a questo Hashem ci toglierà dal più grande limite, che è il limite del Galut, e ci porterà alla più grande redenzione, che è la redenzione della Geulah, come Mosheach Zitkenu, Amen Keniratzon. Fine di Chag Pesach, Sameach a tutti quanti. Fine di Chag Pesach